vi partecipi di questa iniziativa che ho preso ovvero stavo guardando questo salvadanaio no che poi dei bambini perché io ho fatto questo salvadanaio mi sono appena resa conto che ci sono anche dei soldi di carta quindi è arrivato il momento che ci ha messi non tu la carta igienica ci ha messo qua dentro pensa che ci avrete buttato vabbè comunque volevo fare un salvadanaio con cuore e gli ho detto mettiamo ogni giorno 2 euro a testa io ho detto 5 tu 5 io 2 va bene e va bene tu inizi a metterlo no questo mi dice l'ho già messi poi vai a controllare qua dentro quindi bisogna metterli insieme tutti i giorni ok tu di questa cosa non sei convinto lo sai che mia zia quando ha smesso di fumare insieme a mio zio mettevano i soldi che spendevano in sigarette dentro un salvadanaio beh caro mio a fine anno se ne andavano alle Maldive davvero pensa quanto fumava io non fumo te sì tu inizi a metterci no io voglio mettere 2 euro io e 5 euro tu e poi stecchiamo a fine tre mesi dai vabbè ok ho capito non entra e qua va a comprare il più grande vai a comprare un salvadanaio e con i soldi del salvadanaio rimetti dentro i soldi dai me lo vado a comprare tra l'altro se vado ad aprire questo salvadanaio ci rimango molto ma molto delusa cioè che cos'è questo il tesoro di willy lorbo cos'è willy chi era willy lorbo no dai gunnis su svegliate